Ciao a tutti, tocca a me. Sono stato nominato da Marina Marchioni e da Julian Borgesan e allora eccomi qua. Ben lieto di partecipare a questa campagna contro la SLA. Il mio pensiero va a Stefano Borgonovo che è stato un grande giocatore della Fiorentina, squadra che io tipo, e anche il simbolo della lotta alla SLA. Allora, dovevo scegliere tre personaggi, nominarne tre. Ho scelto Claudio Fasolo, grande autore televisivo con il quale ho lavorato. Giovanni, detto Gianni Cuperlo, del Partito Democratico e Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea. Vi chiederete perché? Mi spiego. Siamo nati tutti e quattro il 3 di settembre e visto che tra poco è il nostro compleanno, mi sembra giusto iniziare con una cosa buona. Allora, Mario Draghi e io, lui presidente della Banca Centrale Europea, io con tutti i disastri che ho fatto, siamo nati lo stesso giorno. Pensate se l'astrologia è una scienza esatta. Andiamo? Ci siamo? Piano eh? Vai! Sai un cubetto dove mi è finito? Asi da? Ai, perché?